Una pietra, una pietra questa di notevoli dimensioni, di che cosa si tratta onorevole Maccanti? Guardi, questa purtroppo è una delle pietre che sabato scorso durante gli scontri a Torino contro il gazebo organizzato dai giovani padani e dalla Lega Nord è arrivata fortunatamente solo sulla spalla di un nostro giovane. Io credo che tutti da casa possano vedere le dimensioni, se non fosse arrivata sulla spalla ma avesse colpito qualcuno di noi in testa le conseguenze sarebbero state davvero devastanti. Quello che è successo sabato a Torino ha davvero dell'ordinaria follia, il nostro gazebo è stato attaccato da un gruppo di anarchici e di squatter che si erano dati appuntamento inizialmente per protestare contro alcuni giovani di Casa Pound che poi hanno ritenuto bene di arrivare e aggredire il nostro gazebo. C'erano in quel momento una ventina di militanti nostri, di giovani padani, c'è stato anche uno scontro fisico, poi sono arrivati i rinforzi delle forze dell'ordine, però purtroppo il bollettino è un vero e proprio bollettino di guerra perché tre dei nostri giovani sono stati feriti. Ovviamente immediate sono arrivate le reazioni, adesso abbiamo chiesto a ottenuto un comitato sulla sicurezza che verrà tenuto a Torino proprio venerdì. E' chiaro che in questo modo non si può andare avanti, noi chiediamo lo sgombero di tutti i centri sociali ma soprattutto chiediamo che Torino torni ai torinesi perché la nostra città oramai è davvero ostaggio di certi gruppuscoli, questo è una minaccia serissima per la democrazia. La guerriglia di sabato però non è un caso isolato, da tempo si respira un clima pesante per chi vuole fare attività politica, per i leghisti che vogliono fare attività sul territorio. Infatti noi siamo molto preoccupati perché la questione di sabato segue purtroppo un escalation di violenze, prima contro il nostro ufficio rapporti sociali che è sito in San Salvario, poi ancora contro gli universitari padani che distribuivano soltanto un questionario davanti alla facoltà di giurisprudenza. E' chiaro che c'è un tentativo di delegittimare una forza politica come la Lega Nord, di mettere il bavaglio a una forza politica come la Lega Nord che sta dimostrando nei fatti al governo come all'opposizione in comune a Torino di essere una forza propositiva e soprattutto di lavorare per il bene dei cittadini. Lo abbiamo già detto, non solo questa cosa non ci fermerà ma ci spinge a fare ancora di più. Noi lo abbiamo annunciato, ne abbiamo parlato anche con i vertici delle forze dell'ordine, in campagna elettorale saremo ancora più presenti, ma non soltanto in campagna elettorale, proprio in quei quartieri che da tempo non sono più quartieri dei torinesi. Saremo a Portapalazzo, saremo a San Salvario, saremo soprattutto nelle periferie davanti alle moschee perché questo ci dà ancora più carica e ancora più forza e determinazione.